Buongiorno a tutti, con questo secondo video tutorial ritendiamo da dove avevamo lasciato col primo video. Eravamo arrivati alla pagina del trattamento dei dati personali, del diritto del reclamo, di informazioni di natura legata ai diritti degli interessati relativamente al diritto di rettifica, al diritto alla cancellazione, al diritto di limitazione del trattamento, al diritto alla portabilità dei dati, insomma tutto ciò che riguarda la questione del trattamento dei dati personali. In fondo a questa pagina, facendo accedi, si potrà entrare nella pagina dove si fa la scelta della provincia. Da questo menu a tendina si potrà scegliere la provincia che si ritiene. Chiaramente sono escluse alcune province di regioni a statuto speciale, come Aosta, come Trento, come Bolzano. Però sono presenti poi tutte le altre province, per cui scegliamo una provincia, per esempio la provincia di Varese, e facendo avanti si entrerà, la domanda risulterà inserita, e si entrerà in una pagina in cui ci saranno tutti i dati anagrafici, personali, dell'aspirante alle gradatorie provinciali. Facendo nuovamente avanti dalla pagina in cui c'è tutta l'anagrafica dell'aspirante, si entrerà nel modello di presentazione della domanda, dove troverete delle sezioni da compilare. Alcune saranno sezioni obbligatorie, come per esempio la scelta delle gradatorie di interesse, la fascia e il titolo di accesso, oppure anche le altre dichiarazioni. Tutte le altre sezioni non sono obbligatorie, ma laddove ci sono titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, si compila questa sezione B, dove per esempio ci sono titoli per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, si inserisce questa nuova sezione e si compila. I titoli di servizio vanno compilati, se esistono titoli di riserva si compilerà anche questa sezione, i titoli di preferenza sono importanti perché a parità di punteggio un titolo di preferenza fa stare l'aspirante più su in gradatoria, le altre dichiarazioni abbiamo detto sono obbligatorie, poi c'è la scelta delle sedi, delle gradatorie di istituto e poi gli allegati. Chiaramente il modello di presentazione della domanda necessita come prima azione disponibile proprio la scelta delle gradatorie di interesse, fascia e titolo di accesso, che nel prossimo video vi faremo vedere come si compila.